Ola per piloti, parco fotovoltaico, resort per anziani, pista per prove di automobili, centro per raccolta alimenti, ma anche base per lanci spaziali e parco artistico. Sono queste alcune delle 20 proposte emerse dalla consultazione pubblica avviata dall'Agenzia del Demanio per la valorizzazione dell'aeroporto di San Damiano e le aree demaniali connesse, un totale di 2,8 milioni di metri quadrati di superficie. La consultazione pubblica ha avuto un grande successo, sono più di 130 i soggetti che si sono interessati, hanno fatto proposte, ipotesi e sviluppato progetti. Da adesso in avanti, insieme alle amministrazioni comunali, dovremmo verificare la compatibilità urbanistica delle singole proposte e quindi fare i bandi veri e propri, quelli si vincolanti, che svilupperanno le idee progettuali fino in fondo, quindi anche con la fattibilità economica finanziaria. Ho rilevato veramente tanti qualificati interventi che sicuramente saranno alla base di idee, di progetti, diciamo di suggestioni sul futuro dell'aeroporto, che ribadisco comunque permarrà nell'interesse militare e quindi tutte le attività che ne discenderanno saranno comunque di natura duale, quindi sia militare che civile. Sicuramente sono le proposte migliori, le proposte che portano più risorse e più interventi sul territorio, più lavoro sul territorio. Da pochi anni a San Damiano è un distaccamento, come si vive attualmente questa situazione? Con un po' di difficoltà perché, come vedete, il sedime viene manutenuto ai livelli standard a cui deve rimanere. Il problema è che le persone sono molte meno, per cui il carico individuale è molto più pesante. Il piano di razionalizzazione del Ministero della Difesa prevede il taglio di altre 20 unità entro il mese di giugno.